Questa è la definizione, supponiamo che adesso, tenendo fissa questa definizione, supponiamo che esista la derivata seconda, allora che significa che c'è un flesso? Significa che la derivata seconda cambia segno, è una condizione sufficiente, non necessaria, come l'ho scritto io, va bene così, la derivata seconda cambia segno, è necessaria, perché? Perché io vado a fare il numeratore che abbiamo trattato lì, f di x meno f di x con 0 meno f primo di x con 0 per x meno x con 0, questo qua risulterà uguale a f secondo di si mezzi per x meno x con 0, quadro. Laddove si meno x con 0 è minore di x meno x con 0, questa è la formula di Della, fino all'ordine 1 con il resto della grange scritto di ordine 1. f di x è uguale a questo più questo più il resto. Adesso quando voi andate a dividere per x meno x con 0, e qua 1 se ne va, allora se noi vogliamo che a destra di x con 0 questo è positivo, a sinistra di x con 0 questo è negativo, che vuol dire? Vuol dire ovviamente il punto xi, se x sta a sinistra di x con 0 sta qua, cioè sta in mezzo tra x e x con 0, se x sta a destra di x con 0 sta qua. Ora che succede? Se noi vogliamo che questo sia sempre un flesso ascendente, se un flesso è ascendente vuol dire che questo deve essere sempre positivo. Ma per essere sempre positivo vuol dire che a sinistra la derivata seconda deve essere almeno da qualche parte negativa, in realtà, e a destra deve essere da qualche parte positiva, cioè quindi nell'intorno del punto x con 0 la derivata seconda sta cambiando, cioè in un intorno del punto a sinistra ha dei punti in cui la derivata seconda è negativa, a destra c'è dei punti in cui la derivata seconda è positiva e non può avere dei punti a sinistra dove la derivata seconda è positiva, perché altrimenti o almeno non in ogni intorno del punto, se io nello studio della mia derivata seconda faccio il segno della derivata seconda, il segno è meno 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 0 con 0 viene 0 positivo, questo sicuramente un punto di flesso ascendente che va da questo guaiato, quindi la derivata in generale se la derivata seconda cambia segno, se la derivata seconda è, se la f di classe C2 e quindi la derivata seconda è continua, cambiando segno, cambiando segno al punto del punto deve fare 0, però non basta che faccia 0, deve pure cambiare segno, perché se è più 0 più, allora quella è una funzione commessa, la derivata seconda è una funzione commessa, maggiore qualità, allora cerchiamo di capirlo con degli esempi, adesso siamo arrivati per esempio alla dovesse per studiare una funzione, allora andiamo a studiare la funzione che abbiamo detto prima, x meno 10, allora così intanto facendo l'esempio per andare a trovare i punti di flesso e altri punti particolari e andare a studiare il grafico della mia funzione, io faccio anche l'impianto generale per lo studio del grafico della mia funzione, allora supponiamo di dover studiare la funzione f di x uguale x meno i scupo, quella che avevo scritto, di cui avevo fatto il grafico prima non era x meno i scupo, era i scupo meno i scupo, era l'opposto, ok, andiamo a studiare questa funzione ancora, allora la prima cosa che si deve studiare, uno vi dà la funzione definita in maniera sintetica, cioè vi dice com'è composta, non mi specifichi il dominio, cosa si intende per il dominio della funzione? Il più grande sostanziale di R dove la posso andare a definire, in questo caso il campo di esistenza, il dominio è tutto M, quindi questo è un polinomio, non ci sono problemi ad andarlo avanti. Poi, una volta fatto il dominio, bisogna andare a considerare i limiti della funzione per x che tende ai punti di frontiera del dominio, ora, questo dominio, siccome non ha punti di frontiera, perché è tutto R, la chiusura fa R, la frontiera è vuoto, in questo caso si fanno solo i limiti che x che tende a più infinito di f di x, che è uguale, in questo caso a più infinito, e il limite dell'x che tende a meno infinito di f di x, che fa meno infinito. Questo vuol dire che il grafico della mia funzione, a più infinito se ne va a più infinito e a meno infinito se ne va a meno infinito. Ora, questa funzione è dispari, che significa dispari? Significa che f di x è uguale a meno f di meno x. Infatti, se voi ci mettete meno x al posto di x, siccome quella è una somma di monomi di grado dispari, questo qua è x cubo meno x. Questo qua è meno x al cubo meno meno x. Quanto ti fa x meno? Quindi vedete che la funzione cambia sempre. Quando avete una situazione di questo genere, il grafico sarà simmetrico rispetto all'origine. invece, se la funzione è pari, il grafico sarà simmetrico rispetto all'asse d'ascesso, delle ordinarie. Ok. Detto questo, dobbiamo andare a fare ancora due limiti. Andiamo a fare il limite per x che tende a più o meno infinito di f di x su x, che fa più infinito. E se andate a dividere per x, rimane x quadro meno 1 su x, per x che tende a più infinito, o x che tende a meno infinito, tende a più infinito. Che vuol dire? Vuol dire che non ci sono asintoti... Prima avevamo già visto che non c'erano asintoti orizzontali, perché un asintoto orizzontale, y uguale a m, si dice asintoto orizzontale di f, se e solo se il limite per x che tende a più o meno infinito di f di x, uguale a m, attenzione, qua non intendo che tutti e due i limiti devano fare m, a più infinito è una cosa, a meno infinito è un'altra cosa, quindi a più infinito possiamo avere un asintoto orizzontale, a meno infinito possiamo avere un altro asintoto orizzontale, per esempio, la funzione al quotangente di x, a meno infinito tende a meno pi greco mezzi, a più infinito tende a più pi greco. Poi, non ci sono solo gli asintoti orizzontali, ci sono anche gli asintoti verticali o obbligo, gli asintoti verticali sono tali da limiti infiniti, diciamo che divergono in punti che sono sulla frontiera del nostro dominio, qua non ce ne sono perché la funzione il dominio affrontirà. Però ci sono gli asintoti obbligui, quali sono questi asintoti obbligui? y uguale mx più n, si dice asintoto obbliguo, se e solo se per definizione, il limite per x che tende a più infinito, a meno infinito, siccome al solito la situazione si deve ripetere, quindi ci possono essere un asintoto obbliguo a più infinito, un asintoto in un altro limite a meno, a di f di x meno mx più n, questo limite deve fare 0. Allora, il problema è che qua abbiamo due parametri, m e n, andare a fare questo limite in dipendenza da due parametri, è abbastanza scocciante. Allora, cosa si fa? Se vale questa condizione, questo mi dice che il limite per x che tende a più infinito, di f di x su x, è uguale a m, perché quando divido per x, qua viene f di x su x meno m più n su x, meno n su x, n su x tende a 0, se ne va, porto la m dall'altra parte, e vi viene che questo limite deve fare. Attenzione, che non basta questo, per dire che mx più n sia un asintoto obbliguo, che poi bisogna togliere mx, quindi y uguale mx più n, è asintoto obbliguo, per x per esempio che tende a più infinito, se e solo se valgono due condizioni, il limite per x che tende a più infinito, di f di x su x fa m, e il limite per x che tende a più infinito, di f di x meno mx fa m, perché se una volta ho trovato m, io faccio f di x meno mx, questo limite, dall'uguaglianza di sotto, deve fare m. Quindi per verificare che una retta sia asintoto obbliguo, dobbiamo fare, prima questo limite, e poi questo, in realtà facendo gli sviluppi di McLaren, però in uno su x, perché quando x tende a più infinito, uno su x tende a zero, spesso e volentieri riusciamo a fare tutte e due insieme, ok? Però questo è un altro discorso, qua asintoto obbliguo non ce ne stanno, perché? Perché quando vado a fare il primo limite, f di x su x, m non c'è, perché questo limite fa più infinito, che vuol dire, il comportamento della funzione è superlineare, e quindi non ha asintoto obbliguo. Poi abbiamo visto che la funzione si annullava nei punti, meno 1, 0 e 1. Poi, se vado a fare il segno della funzione, la funzione è facile da fare insieme. è facile da calcolare il segno, la mia funzione è x per 1 meno x quadro, 1 meno x quadro è positivo per valori interni, del valore delle radici, x è positivo sui positivi, in frate il prodotto di segno, poi viene negativo, positivo, negativo, e già possiamo abbozzare un grafico, e più o meno. Adesso, cosa ci dice questo grafico? Andiamo a fare la derivata prima della funzione. La derivata prima della funzione fa 3x quadro meno 1. Allora, la derivata prima si annulla, se e solo se, x è uguale più o meno 1 su radica 3, quindi che significa? Significa che 1 su radica 3 è un po' più grande di 0,5, perché radica 3 è un po' più piccolo di 0,5, quindi meno 1 su radica 3. 1 su radica 3. In questi punti, già lo sappiamo dal grafico abbozzato, la funzione che cosa avrà. Qua avrà un massimo relativo, e qua avrà un minimo relativo. Volete esserne più convinti? Se andate a studiare il segno della nostra derivata, il segno di f primo. Il segno di f primo come fa? La nostra derivata si annulla in questi due punti, ma siccome è una, stavolta è 3x quadro meno 1, i valori sono positivi, e un po' abbiamo ricato 2, i valori esterni, all'intervallo delle radici, che significa? Che la mia derivata fa più 0 meno, vicino a questo punto, che significa? Che la funzione saliva si ferma a scendere. Più 0 meno, vuol dire massimo relativo. Dimenticatevi di andare a studiare la derivata seconda, per capire se è massimo, se è minimo, no? Perché uno dice, va bene, ma se la derivata seconda, qua è negativo, vuol dire che è massimo. ma non mi serve, la derivata prima fa più 0 meno, sale, scende, se prima sale e poi scende, è un massimo. Perché devo andare a vedere la derivata seconda? La derivata seconda la devo vedere per altre cose, ma non per vedere se è un massimo. Più 0 meno, scende, prima sale e poi scende, è un massimo. Poi qua, meno 0 più, questo è un minimo. Andiamo a fare la derivata seconda, scriviamo qua sopra, la derivata seconda fa 6x. Adesso lo studio del segno della derivata seconda è 0, prima è negativa, poi 0, poi è così. che significa, quello che abbiamo visto prima, che questa funzione, in 0, ha la derivata seconda che cambia segno, e quindi ha un flesso. Che tipo di flesso? Adesso, quanti pensano che sia discendente? Nessuno. Quanti pensano che sia ascendente? Quasi tutti, ma non tutti, non l'ho convinto. È chiaro? Ha un flesso ascendente. Allora, se vi chiedo dov'è commessa la funzione, dov'è commessa la funzione? Nella semiretta, da 0 a più infinito. Quando la funzione è meno f commessa, cioè quando la derivata seconda è negativa, la funzione si dice concava. quindi dov'è che ponga la funzione, da me nel mio finanziario. Ok? Facciamo un altro, un poco più... Allora, facciamolo uno un po' più semplice. Facciamo un po' più semplice. Grazie. Allora, andiamo a fare. F inizia. Allora, vediamo qua. Facciamone uno ancora semplice, vai. Allora, facciamo questo qua, ancora abbastanza semplice. x cubo fratto 1 più x4. Questo è molto semplice. Anzi, facciamolo un po' più complicato, va. Facciamo x alla quarta, e poi facciamo la radice. Se no, non c'è successo. Allora, stavolta la funzione, la prima cosa che devo vedere è che, vabbè, il campo di esistenza qual è? R. Tutto R. Che non ho problemi a fare la divisione, tutto quello che c'è sotto la radice è maggiore o uguale a zero, quindi non ho problemi a fare la radice. Allora, poi cosa devo vedere? Devo vedere che la funzione è, stavolta, una di prima e la dispari, questa è, pari. Cioè, ogni volta che una funzione dipende soltanto dai quadrati della x, quadrati con potenze pari della x è pari. Cioè, se faccio f di meno x, meno x al quadrato, meno x alla quarta, vengono quelli di prima e quindi la funzione viene a quadrati. Quindi, che significa? Che basta, basta andare a studiare il grafico della funzione, vabbè, io lo faccio tutto, però in realtà basta andare a studiare il grafico della funzione da zero in poi, che poi dopo lo ribalto e ottengo il grafico della funzione. Poi, ma un'altra cosa semplice da fare è f di x è sempre maggiore o uguale a zero, f di x è uguale a zero quanto? Mi sembra maggiore o uguale a zero perché è una radice aritomenica, quindi è uguale a zero dove? Se questo è uguale a zero, faccio il quadrato e viene zero, quindi x alla quarta viene a zero, quindi x viene a zero. Se è solo 6, x uguale a zero. Il difetto della lavagna lo incorporiamo. Solo stavolta lo fare x quasi, no? Sembra. Va bene. O. Adesso andiamo a fare la derivata. Allora, dove si può fare la derivata? Beh, in verità la derivata di una radice si può fare tranne nei punti dove la radicando si annulla. e radicando si annulla in x uguale a zero. Però per x maggiore di zero si può fare sicuramente. Per x maggiore di zero quanto fa la derivata? fa 1 su 2 volte la radice di x alla quarta fratto 1 più x quadro per la derivata di questo. adesso, attenzione, se io devo derivare x alla quarta fratto 1 più x quadro, mi conviene scrivere che questo è uguale a x quadro meno 1 più 1 fratto 1 più x quadro. Perchè? Perchè? Questa è la divisione di un filo. Questo per questo fa x alla quarta meno 1. Allora, x alla quarta è uguale a x alla quarta meno 1 più 1. Quando divido per 1 più x quadro, questo è uguale a x quadro meno 1 più 1 fratto 2. Perchè? 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 Perchè adesso quando vado a fare la derivata di questo, che è una somma, posso scrivere 2x poi meno 1 fratto 1 più x quadro per la derivata di x quadro che fa x. è più facile, potete farlo anche direttamente, poi lo facciamo anche l'altro. Quindi intanto, adesso semplifichiamo il 2, quindi questo mi viene la radice x alla quarta fratto 1 più x quadro, poi c'è qua 1 più x quadro, tutti e due li ho semplificati al denominatore del denominatore. Poi qua c'è x cubo, perchè sarebbe x più x cubo meno x, x meno x se ne va. Quindi cosa mi viene uguale, qua c'è 1 più x quadro alla 3 mezzi e poi c'è 1 più x quadro, qua c'è 1 più x quadro alla 1 mezzo. Poi la radice di x alla quarta fa x, scusate, radice di 1 più x quadro alla 1 mezzo, perchè questo sta al denominatore del denominatore del denominatore. Questo sta al denominatore del denominatore, quindi fa se stessa il numeratore. poi questo invece sta x quadro, x cubo fratto x quadro per x, e dovremmo fare questo. Adesso se volete lo rifacciamo nell'altro modo. lo rifaccio qua sopra, f primo di x uguale 1 su 2 volte la radice di x alla quarta, fratto 1 più x quadro, per, adesso che devo fare? devo fare 1 più x quadro, ah no era la 3 mezzi perchè questo qua era al quadrato eh? e allora qua ho sbagliato, mi sono dimenticato, quando ho fatto la derivata, quindi qua è sbagliato. questa qua è 2x, quando ho fatto la derivata di 1 fratto 1 più x quadro, mi sono dimenticato qui? qua? qua andrà, per 2x. e allora stavolta, qua devo moltiplicare, allora qui ho la radice x quarta fratto 1 più x quadro, sopra ho 1 più x quadro al quadrato, sopra ho x più 2x un po' più x alla quinta meno x. perchè devo moltiplicare x non per 1 più x quadro, quindi non facendo x più x cubo, ma facendo x per 1 più 2x quadro più x alla quarta, quindi adesso x meno x se ne va, e quindi, e quindi effettivamente qua mi viene 2x cubo più x alla quinta fratto x quadro per 1 più x quadro al quadrato e mezzo. questo sta al denominatore, questo sta al numeratore, 2 meno un mezzo fa 3 mezzi, radice di x alla quarta fa x quadro, semplificando qua mi viene 2x più x alla quinta, quindi mi viene x per 2 più x quadro fratto 1 più x quadro al quadrato e mezzo. semplificato di x quadro per te devi destra la x che rimane così. ok, facciamolo nell'altro modo, allora derivata di radice 1 fratto 2 radice per, adesso qua devo fare il denominatore al quadrato, potevo fare la derivata di x alla quarta che fa 4x cubo per 1 più x quadro, meno la derivata di 1 più x quadro che fa 2x e moltiplica x alla quattro, quindi 2x alla quattro. quindi qua mi viene, sotto mi viene 2x quadro per 1 più x quadro a 3 mezzi, 2x quadro per 1 più x quadro a 3 mezzi, e sopravviene e sopravviene 4x cubo più 2x alla quinta, adesso semplificate per 2x quadro e vi viene 2x più 2x più x quadro, quindi viene 2x più x quadro fratto 1 più x quadro a 3 mezzi, ma in questo caso addirittura è al più senso, infatti in quest'altro modo stavamo sbagliando così, però in molti altri casi conviene fare la divisione, in ogni caso quando l'avete fatto in due modi diversi alla fine si accorta, è molto probabilmente che abbia sbagliato. quindi questa derivata prima dove? quando x è positivo, questa derivata prima che segno ha? è positivo, è positivo, no? e per x che tende a 0 che fa questa derivata? questo tende a 2, questo tende a 1, questo tende a 0, quindi la derivata tende a 0, in questa situazione vuol dire che la funzione ha la derivata anche in 0, e vale 0, qui però questo vale per le x positive, invece se la x è negativa la derivata è negativa, quindi che vuol dire? se la derivata è meno 0 più, vuol dire che la funzione in 0 ha un meno, chiaro? è derivabile in 0? certo che è derivabile in 0, la derivata in 0 fa 0, o fate il rapporto incrementale, se andate a fare la radice quadrata, questa funzione qui è x quadro fratto la radice di 1 più x quadro, vado a fare il rapporto incrementale in 0, faccio questo, meno 0 diviso x, rimane una x al numeratore, faccio x che tende a 0, vedo che la derivata fa 0, oppure, non fa niente, io questa derivata vale per x diverso da 0, questa derivata è la positiva per i 2, però siccome la derivata ha il limite nel punto, vabbè non l'abbiamo dimostrato, però ci potete credere lo stesso, quando esiste il limite della derivata nel punto, la funzione ha la derivata anche nel punto, se la funzione è continua, derivabile negli altri punti, e il limite delle derivate fa 5, vuol dire che la derivata nel quel punto faceva 5, qua il limite delle derivate fa 0, vuol dire che, ma in ogni caso, il fatto di sapere che la derivata fa 0, mi serve soltanto per fare il grafico bene, nel senso che qua la tangente è orizzo, in ogni caso questo sarebbe stato un punto di minimo, anche se la derivata non c'era, perché la funzione prima scende e poi sale, se una funzione prima scende e poi sale, quello è un minimo, cioè i grafici di f' del tipo, meno, zero, più, sono minimi, meno, non esiste, più, sempre minimo e, che prima scende e poi sale, però in quel caso non avrei saputo se magari era, se non esiste una derivata, per esempio potrebbe esserci un punto angoloso, invece qua il punto angoloso non c'è, quindi per ora di questa funzione sappiamo solo questo, andiamo a vedere cosa possiamo dire per quanto riguarda gli asintoti, ovviamente per quanto riguarda gli asintoti verticali non ce ne sono perché la funzione si definita per tutti, andiamo a vedere per quanto riguarda gli asintoti orizzontali o obliqui, allora per vedere se esistono asintoti orizzontali o obliqui, io cosa faccio? ve lo faccio qua, vado a sviluppare la mia funzione all'infinito, come si fa? allora la mia funzione, ripeto, f di x è uguale a x quadro fratto la radice di 1 più x quadro, ok? allora faccio tendere x a più infinito, ok? Allora cosa faccio? quindi x è positivo, se tendo a più infinito lo prendo positivo, mettendo in evidenza x quadro sotto radice, l'ho porto fuori, quindi mi rimane x fratto la radice di 1 più 1 su x quadro, ora la x è in evidenza, io non la do, questa quantità è la radice di 1 più t, questo lo chiamate t, t che cosa fa? se x tende a più infinito, 1 su x che è uguale a t, tende a 0, quindi questo qui, se vi ricordate, è uguale a 1, questo è 1 più 1 su x alla 1 mezzo, questo è uguale a 1 più 1 su 2x, cioè più t mezzo, che è 1 più x alla alfa, era 1 più alfa x, poi il termine successivo è, meno 1 ottavo su x quadro, perché? perché se vi ricordate, bisognava fare alfa per alfa meno 1 diviso 2, 1 mezzo per meno 1 mezzo, fa meno 1 quarto, diviso 2, fa meno 1 ottavo, x quadro, e poi tutto quello che avanza è di ordine superiore al secondo, questi sono infinitesimi, questo è l'invidenza di ordine 2, questo è l'invidenza di ordine superiore al 2, perché stiamo andando a più infinito, quindi questo qui lo scrivo come 1 più 1 su 2x, meno 1 su 8x quadro, più o piccolo di 1 su x quadro, questo qua non sto facendo trucchi, questo è andato a 1 il denominatore qua, e infatti qua va a 1, solo che ha specificato mezzo, adesso cosa faccio? Ricomincio, dico questo è uguale a x fratto, tutto questo lo chiamo t, per x che tende a più infinito, t tende a 0, quindi x fratto 1 più t, a chi è uguale? è uguale a x per 1 meno t, se vi ricordate? 1 fratto 1 più t è uguale a 1 meno t più t quadro più o piccolo di più quadro, quindi 1 meno t, meno t che significa? meno 1 su 2x più 1 su 8x quadro più o piccolo di 1 su x quadro, ma non era meno? meno o piccolo è uguale a 1, ma devo fare più t quadro, ma quando faccio più t quadro devo fare il quadrato solo di questo, perché tutti gli altri termini quando faccio il quadrato, sono di ordine superiore al secondo fisico, quindi uguale, qui abbiamo x meno un mezzo, meno un mezzo, più 1 su 8x, più, no scusate, 1, queste sono due ottavi, 3 su 8x, ne ho dimenticato di fare questa solo, questi sono due ottavi, più un ottavo fa 3 ottavi, questo più questo fa 3 ottavi, 3 su 8x quadro, e poi c'è lo piccolo che quando lo moltiplio per x diventa un piccolo di 1 su x, e quale motivo? eh beh, era di ordine 2, ma quando lo moltiplio per x che va più infinito diventa di ordine superiore a 1, chiaro? ok, adesso cosa mi dice questa struttura qua? questa è la mia f di x, uguale x meno un mezzo, più 3 su 8x più o piccolo di 1 su x, chi è l'asintoto secondo voi? sta scritto? chi è? come deve essere fatto l'asintoto obliquo? f di x dovrebbe essere uguale a mx più n, mx più n, x meno mezzo, questa è l'asintoto, questo fa 0, il resto fa 0, come ci fa 0? beh, questo non lo sappiamo, però sappiamo che dire di essere uguale, questo come ci fa? questo se x tende a più infinito, tende a 0 più, perché se x va più infinito questo è positivo, l'altro può avere il segno che vuole, ma è più piccolo di questo, quindi noi sappiamo che cosa? che se prendiamo, allora questa è la nostra funzione, qua c'è x meno un mezzo, qua è un mezzo, qua è un mezzo, e questa è la funzione x meno un mezzo, cosa sappiamo? sappiamo che la nostra funzione a questo asintoto ci si appoggia da sopra, per quale motivo? la funzione, la funzione è uguale a x meno un mezzo più qualcosa, r di x che per x che tende a più infinito, tende a 0 da sopra, questo fatto è molto importante perché anche se voi calcolate l'asintoto con i limiti tradizionali, poi non sapete se rispetto all'asintoto la funzione sta da sopra o da sotto, invece qua il fatto di aver calcolato, qua c'era 3 su 8x, più o piccolo di 1 su x, ora questo pezzo qua è positivo quando x tende a più infinito, che vuol dire che la funzione si mantiene al di sopra, se invece fosse stato negativo, guardate le implicazioni, se fosse stato negativo la mia funzione doveva avere per forza un flesso, qua la funzione vedremo che è commesso, nel momento in cui si deve appoggiare a questo asintoto da sopra, non c'è nessun buon motivo perché debba cambiare la commessità, ma se invece doveva prima scendere sotto e poi appoggiarsi, non vedete che doveva fare la s? Quindi il fatto di sapere che al nostro asintoto ci stiamo andando da sopra, ci dice con tranquillità che la nostra funzione ha questo tipo di graffio all'infinito e questo tipo di graffio vicino al zero, poi dobbiamo connettere i punti, siccome la funzione è pari, che vuol dire che da quest'altra parte l'asintoto è, siccome la funzione è pari è meno x meno mezzo e la funzione ci si appoggia sempre da sopra, se volete esserne sicuri provate a fare lo sviluppo per x che tende a meno infinito, tenete conto che quando portate fuori la radice di x quadro non è più x ma è meno x, quando x è negativo la radice di x quadro è meno x, provate a farlo e vedete, ma qua non abbiamo bisogno di farlo perché la funzione è pari, allora, cosa ci dice questo grafico? ci dice che molto probabilmente la mia funzione fa una semplice vaschetta fatta così e rimarrà sempre commessa, per essere sicuro che però che rimanga sempre commessa io che devo fare adesso? devo fare la derivata seconda perché la funzione anche facendo così potrebbe fare delle incertezze, non succede, ma potrebbe succedere, quindi per escludere questa cosa io devo fare ancora la derivata seconda, allora la derivata prima faceva x, allora f prima di x faceva x per 2 più x quadro, anzi scriviamo 2x più x1, fratto 1 più x quadro alla tre mezzi, allora la derivata seconda quanto fa? allora devo fare il quadrato del denominatore, quindi qua mi viene 1 più x quadro a 2, poi devo fare la derivata del numeratore che fa 2 più 3x quadro per il denominatore non derivato, quindi per 1 più x quadro alla tre mezzi, meno la derivata del denominatore che quindi fa 3 mezzi per 1 più x quadro alla un mezzo, per 2x e moltiplica 2x più x quadro, uguale, uguale vedo di continuare qua, ovviamente ho sempre capitato di fare errori eh, speriamo di non farlo, comunque sotto davamo 1 più x quadro al cubo, sopra cosa abbiamo? Allora mettiamo in evidenza una radice di 1 più x quadro, qui ci rimane 2 più 3x quadro per 1 più x quadro, più, anzi meno, 2 e 2 lo semplifichiamo, questo l'abbiamo messo in evidenza, quindi mi rimane meno 3x per 2x più x quadro, allora è evidente che questo fa 1 più x quadro alla 5 mezzi sotto, ed è sempre positivo, quindi il segno della derivata seconda dipende dal segno della parentesi quadra, allora la mia parentesi quadra, la vado a sviluppare e mi fa, 3x alla quarta, più 3x quadro, più 2x quadro, più 2, meno 6x quadro, meno 3x alla quarta, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'... vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' il controllozzo, vediamo un po' i quadri, Per esempio, questo è interessante, perché se fosse vero questo, allora ho fatto un errore. Ho sbagliato la derivata, oppure ho sbagliato lo scritto. Perché? Perché questa qui mi viene positiva vicino a zero, ma negativa quando x è distante da zero. Quindi sarebbe coerente con quell'altro tipo di discorso. Allora, andiamo a rivedere. Uno dei due si è sbagliato. Quindi siamo sicuri di aver sbagliato uno dei due. Ora, 2 più 3x quadro per 1 più x quadro, meno 3 mezzi per 1x quadro per 2x Va bene. Allora, andiamo a rivedere. La derivata sembra fatta bene, però... Allora, qua è difficile, quando fai un errore del genere, è difficile che lo trovi subito, perché se rifai il punto, molto spesso rifai lo stesso errore. Allora, andiamo però a rivedere lo sviluppo, almeno questi due minuti, perché... almeno le grossi due minuti, è sì. Cosa ho sbagliato? Ho sbagliato abbastanza. Cosa ho sbagliato? Era molto più semplice lo sviluppo. Cosa ho sbagliato? Sa sbagliato questo? Mi sono dimenticato e ho guardato qua. Allora, questo era un mezzo, ma di questo. Quindi, un mezzo x quadro e quindi viene 1 meno 1 su 2x quadro più o piccolo... di 1 su x quadro, quindi andate a moltiplicare x meno 1 su 2x più o piccolo di 1 su x. Che è molto meglio. Allora, l'asintona non è più x mezzi, l'asintona è y uguale a x. Per quale motivo? Perché questo tende a zero, ma questo qua adesso per x che tende a più infinito, tende a zero negativo. Che vuol dire? Vuol dire che l'asintona non era... Allora, il grafico della funzione era questo qua. Il grafico della funzione era questo qua. L'asintona sono x e meno x. La mia funzione qua è derivabile, è derivata nulla. Però, per andare a qualsiasintoti, si deve appoggiare a qualsiasintoti da sotto e deve avere un grafico che, siccome qui la funzione era commessa, che potesse appoggiare da sotto molto probabilmente, e infatti lo è, perché abbiamo fatto la derivata seconda, abbiamo visto che è negativo, la funzione sarà concava per x che tende a più infinito. Allora, vedete la potenza di questi metodi? Cioè, se tu ti fai la derivata prima e la derivata seconda, non servono per studiare, servono per controllo. Nel momento in cui io ho fatto un errore nello sviluppo, mi faccio la derivata seconda, ho visto che non è coerente con lo sviluppo, uno dei due deve essere sbagliato. torno indietro e trovo l'errore, tra l'altro, l'errore che ho fatto mi aveva reso lo sviluppo molto più complicato, perché qua me l'ho dimenticato il quadrato e ho fatto lo sviluppo come se fosse una radice di una frattura più complicata, e quindi veniva molto più complicato. Invece, lo sviluppo è venuto molto più semplice, perché gli ordini qua di infinitesimo aumentavano, e però, stavolta l'asindolo ci andava da sotto, ma se l'asindolo andava da sotto, allora effettivamente qua la funzione deve essere cosa? E allora effettivamente ci devono stare due punti di flesso, dove stanno i due punti di flesso? Stanno a più o meno radica 2. A questo punto, il grafico, diciamo che il disegno non sarà perfetto, però le proprietà qualitative del grafico della funzione sono quelle. Poi probabilmente a voi avrà dato fastidio l'errore, però in realtà io sono contento che ci sia stato perché vi dimostra che l'errore non rimane. Se tu fai i conti come li devi fare? Se hai fatto l'errore hai delle cose contraddittorie, se sono contraddittorie, è difficile avere due errori che si confermino l'uno o quello che dice l'altro, è quasi impossibile. Quindi nel momento in cui tu fai un errore, vai a vedere, incontri una contraddizione, tieni accorgi e torni indietro. Ok? Arrivederci! 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 Arrivederci!